eccoci qua con il nostro Dosage Zero. Dosage Zero vuol dire che il residuo zuccherino che c'è all'interno di questo prodotto va da 0 a 3 grammi litro e qua abbiamo uno 0 grammi litro perché il passaggio dalla liqueur viene proprio saltato per questo prodotto. È un vino che va alla ricerca anche di quei palati di quel mercato che in questi anni sta crescendo tantissimo e quindi ci sembrava doveroso immettere sul mercato un nuovo figlio che lo chiamiamo questo Dosage Zero per quella nicchia di mercato che appunto è sempre la ricerca di vini più verticali, più importanti che non ammettono scorciatoie. Allora questo prodotto sosta almeno sui lieviti 36 mesi e all'interno del nostro Dosage Zero abbiamo i vigneti che sono i più longevi nostri che sono dei primi degli anni 90 e sono nella zona di Fantecolo e Montero Tondo all'interno di questo bellissimo anfitriato morenico che è appunto la Franciacorta con l'espressione massima del territorio. Per il colore del nostro Dosage Zero abbiamo scelto questo viola e l'oro che sono l'espressione di eleganza e di importanza per questo prodotto che non ammette scorciatoie. Allora Daniele ci siamo, direi che siamo pronti per lanciare questo nuovo prodotto, questo Dosage Zero con 36 mesi di affinamento e invitiamo tutti gli amici a venirlo a soggiare assolutamente. Da metà ottobre. Salute.